l'ultima impresa di ronaldo nella partita portogallo croazia segna un gol ronaldo è in forma uno sguardo al suo impressionante talento in portogallo contro croazia ronaldo è in forma uno sguardo al suo impressionante talento in portogallo contro croazia la stella del calcio portoghese cristiano ronaldo ha nuovamente dimostrato le sue straordinarie abilità sul campo nell'amichevole tra portogallo e croazia dello scorso fine settimana ronaldo è riuscito a segnare un altro gol impressionante questa rete segna un ulteriore traguardo nella sua già straordinaria carriera la partita si è svolta nello stadio algarve sold out dove ronaldo ha catturato l'attenzione del pubblico con la sua performance e ha guidato la sua squadra verso la vittoria secondo i rapporti l'atmosfera prima della partita era già promettente poiché i tifosi speravano in un emozionante duello tra due nazioni di calcio la partita è iniziata con intense giocate da entrambe le parti il portogallo guidato dal suo capitano ronaldo ha mostrato fin dall'inizio uno stile di gioco offensivo ronaldo che non è solo conosciuto per la sua capacità di segnare è stato anche in grado di mettere in luce i suoi compagni di squadra alcune fonti hanno riportato che ha fornito diversi assist pericolosi che però inizialmente sono stati sprecati il culmine della partita è arrivato nel secondo tempo quando ronaldo è finalmente riuscito a segnare secondo i media è stata una bellissima conclusione da lontano che ha superato il portiere croato e si è infilata in rete la gioia nello stadio era palpabile e ronaldo è stato acclamato con entusiasmo per la sua prestazione gli esperti hanno sottolineato che questo gol non era solo uno spettacolo per gli spettatori ma anche una prova della capacità di ronaldo di segnare in particolare in una partita così importante come questa la squadra del portogallo che in passato ha dimostrato buone prestazioni ha potuto consolidare ulteriormente il suo status nel calcio internazionale grazie a questa vittoria molti analisti sono concordi nel ritenere che il portogallo nonostante i tanti talenti in rosa sia fortemente dipendente da ronaldo la leggenda del calcio di 38 anni potrebbe svolgere un ruolo decisivo nella preparazione ai prossimi competizioni internazionali viele utenti erano d'accordo sul fatto che grazie al suo impegno e alla sua professionalità sia un modello per i giovani giocatori della nazionale ronaldo è generalmente considerato un fenomeno che ha segnato il gioco per decenni per quanto riguarda il futuro non è chiaro per quanto tempo ronaldo possa continuare a giocare ai massimi livelli ecco la traduzione del testo in italiano mentre alcune voci potrebbero essere preoccupate per la sua età molti gruppi di fan e professionisti credono che non abbia ancora raggiunto i suoi limiti resta da vedere come si svilupperanno le prossime partite e quale ruolo continuerà a svolgere ronaldo in esse l'incontro tra portogallo e croazia entrerà senza dubbio nei libri di storia non solo per la partita vincente ma anche per la straordinaria prestazione di un calciatore che affascina il mondo autore anita fache venerdì 6 settembre 2024